No, è molto bello. Laterizzi, divani, mobili di plastica, materassi. Probabilmente gli incivili approfittano delle ore serali e notturne per sversare di tutto in via Vasca, a nocera inferiore. Il Civico 14 è diventato una discarica. Un'area prospicente ad un canale di competenza del Consorzio di Bonifica è stata sfangata e ripulita dagli arbusti che sempre l'hanno caratterizzata per fare spazio ad uno sversatoio illegale. Un accesso agevole, in modo che i furgoni possano entrare a retromarcia e riporre i loro carichi di veleni. È stato creato un corridoio di circa 100 metri per poter agevolmente disseminare mattonelle, intonaci, asfalto rimosso da solai e tante buste nere. Queste ultime, sigillate, spaventano più di ogni altra cosa. Ce ne sono tantissime e sono in particolare nel canale che dovrebbe servire per irrigare i campi. Quali nefandezze possano contenere restano incognita. Chi vive in via Vasca ha segnalato la cosa all'amministrazione comunale di Nocera Inferiore che lo scorso mese di ottobre ha girato la patata bollente ai responsabili dell'area, ovvero il Consorzio di Bonifica. Anche l'ASL e l'ARPAC sono state informate del rischio per la salute pubblica. Dopo quattro mesi nessuno ha mosso un dito, anzi, i rifiuti sono aumentati e i due casi sono stati pure dati alle fiamme. I residenti ne chiedono la rimozione, ma chiedono anche l'installazione di una telecamera che possa beccare in flagranza i criminali che depositano i loro rifiuti e fare da deterrente. Sono pronti a ribadirlo nei prossimi giorni anche con una petizione e un esposto in procura. Grazie. 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 Grazie.